Oriani sta per giungere in Toscana. Sono alla cima. La fontana chiedo a un ragazzino guercio dinanzi alla casa, che deve essere l'osteria di Mandriole. Lì mi accenna un sentiero che si svia dalla strada tra magnifici faggi. La fontana ha una bocca di colubrina e un getto impetuoso che si rompe dentro un abbeveratoio largo e lungo come una tinozza. La tentazione è troppo forte. Appoggio la bicicletta a un albero, mi sfibio la cinta e sollevo già la maglia quando un gruppo di voci femminili stridulo come un ciarlottio di uccelli mi arresta. Mi volto. Cinque o sei signorine vestite di giallo, di bianco, di rosso, tutta una festa di colori e di risa irrompe sul sentiero. Ho appena il tempo di ricompormi prima che indovinino il mio pensiero di prendere un bagno dentro quella tinozza, sotto quel getto di un'acqua di accia da spaccare i bicchieri. Eppure sarebbe stato così voluttuoso. Esse guardano sospese. Io mi rimetto la cinta, bevo lungamente con la bocca sull'arco raggiante dell'acqua che mi spruzza con una violenza di sabbia sul viso e tutto grondante dalla barba passo loro dinanzi a testa bassa. Non sono belle, ma allo fossero pure, il loro più lusinghevole sorriso non varrebbe il bagno che mi hanno vietato. Malgrado la fame rimonto in sella. Ecco la valle del Casentino, la punta della Verna, a sinistra vi deve essere il Bosco di Camaldoli. Scorgo Badia-Prataglia, un gruppo di case tra le quali spicca già una villa moderna, forse un albergo. Le prime giravolte sono ripide, poi si addolciscono e la bicicletta scende quasi al volo. Ma accorgo ad aver guadagnato in sicurezza e velocità. Il paesaggio è più allegro, il sole meno torrido. La discesa sembra allungarsi capricciosamente, quasi per il piacere di adattarsi, accarezzando ogni curva, passando dinanzi ad ogni casa. Ecco una bettola. Mi fermo. Vi è del vino, del pane, del formaggio e del salame. Il doppio di quanto basta. Esco subito col fiasco in una mano e il resto nell'altra, per sdraiarmi poco lungi sotto un castagno gigantesco, al piede del quale sta seduto un vecchio straccione. Lo stessa. Una donna se galigna con dei lunghi denti gialli lo investe subito. Possibile che tu non possa andare altrove. Ma egli si volta appena. Chi è? Le domando. Un mezzo matto, il più terribile bestemmiatore. Ma è una vera persecuzione che debba sempre venire qui. Poi insiste per recarmi un tavolino e una sedia, mentre io mi corico appunto presso il vecchio e lo invito a merendare con me. I suoi abiti cadono a pezzi, ai capelli lunghi che gli sfuggono alle orecchie da un berrettone di lana e il viso rugoso seminato di rari peli bianchi. Deve aver molto sofferto, perché sotto quella sua miseria si sente la disperata indifferenza di chi non lotta più. Accetta da bere, senza accorgersi che spingo l'intrepidezza, sino a porgergli il mio stesso bicchiere, malgrado il colore dei suoi baffi. E a poco a poco, vicino a lui, anch'io ridivento triste. Tu bestemmi dunque assai, li domando ad alta voce, vedendo appunto ritornare lo stessa. Pregate voi, signoria? La sua risposta è stata pronta, ma la sua voce se mi spenta di vecchio mi è sembrata uno di quegli echi ai quali talvolta crederemmo di udire un altro gemito, tremare lontanamente. Chi dovrei pregare? Signoria non lo ecciti, infatti un raggio come di lucignolo morente li batte dentro gli occhi. Bisogna pregare la gente che perdoni a Cristo di averci tutti ingannati con le sue promesse. È pazzo, signoria, non ci badi, egli bestemmia sempre così. Un contadino si è fermato in quel momento all'uscio della bettola ed ella ha dovuto rientrare. Veda, mi diceva poco dopo mentre la pagavo sul piccolo banco lercio, bisogna confessare che è stato molto disgraziato. L'ultimo figlio gli è morto ed avrebbe seguitato se non le voltavo bruscamente le spalle per non udire la spiegazione di quella bestemmia degna di un santo.